Ciao ragazzi, io sono Ara, benvenuti in questo nuovo video, eccoci qua con Kusan Aokiji finalmente, il secondo degli ammiragli per la linea Figaro Zero dedicata a One Piece. Dopo aver visto Akainu, ecco qui che vediamo lui, era anche ora, ecco qui la confezione, questa è la parte frontale, questa volta devo dire che mi piace perché fa vedere bene la figura all'interno. Al contrario di Akainu che non si vedeva molto bene invece, questo qui è uno dei lati, questo qui invece è l'altro lato con uno zoom dell'immagine, questa è la parte superiore, questa qui è la parte inferiore, molto molto figa e questo qui ragazzi è il retro della confezione. Come sempre vi ricordo che se volesse acquistare queste o tante altre action figure o statue le potete trovare nel mio sito Ara Shop nella scheda in alto, se YouTube me le fa mettere, oppure qui sotto nella descrizione. Sono disponibili al momento ancora tutti e tre gli ammiragli, fortunatamente non sono ancora andati esauriti, comunque direi di non perdere altro tempo, andiamo subito a vedere il nostro Aokiji fuori dalla confezione. E allora ragazzi, eccolo qui, guardate che fierezza questa statua, la posa è figa, molto semplice, niente di che per carità, però è veramente veramente bello, con questo braccio alzato, con tutto l'effetto di ghiaccio che poi vedremo nel dettaglio. Ma soprattutto ragazzi, chiaramente la parte che spicca maggiormente a parte il personaggio è questa, l'effetto di ghiaccio che ha alle spalle, vedete queste ali di ghiaccio che ci sono qui e questi altri spuntoni di ghiaccio che ci sono proprio sul retro. Veramente spettacolare, possiamo ammirare anche da lontano tutti i dettagli del personaggio e come al solito abbiamo questa base enorme, devo dire forse esagerata, oserei dire. Si può comunque rimuovere in questo modo qui, come anche Akainu, senza alcun tipo di problema, eccola qui. C'è scritto appunto il nome dell'ammiraglio e chiaramente si può posare anche senza e io preferisco 10.000 volte così, parere personale ovviamente, un gusto personale. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio la nostra statua perché merita davvero. E allora cominciamo dal viso che è fatto veramente benissimo, una precisione, una pulizia del painting veramente invidiabile. Vediamo anche che i capelli sono scolpiti molto molto bene e vediamo qui l'effetto di ghiaccio, il braccio congelato che è spettacolare. È leggermente trasparente però appunto sembra proprio ghiaccio, sembra veramente fatto di ghiaccio con queste sfumature bianche, con appunto questa parte che si scurisce un po' perché chiaramente la manica sotto è più scura, vedete, è di questo colore qui. E poi c'è anche, vedete, il ghiaccio che va a finire sulla giacca. È fantastico anche questo, fatto veramente veramente bene. E vediamo anche che comunque la giacca non è bianca e basta ma ci sono delle sfumature, vedete, violacee per renderla meno piatta. Vediamo il resto dei dettagli sempre di Aokiji e poi ci focalizzeremo sull'effetto che secondo me è la parte migliore. Qui vediamo il cappotto appunto da ammiraglio con questi kanji che dovrebbero significare giustizia, se non mi ricordo male. Me l'ha detto Ema che tra l'altro devo ringraziare tantissimo per aver permesso questa recensione perché questa figure è sua, l'ha acquistata da me insieme ad Akainu e mi ha permesso anche di recensirla. Quindi veramente il top del top, grazie mille. Comunque focalizziamoci sull'effetto di ghiaccio. Eccolo qua ragazzi, è splendido, spettacolare. Anche qui sembra ancora di più ghiaccio reale, guardate, è trasparente qui. E poi si va diciamo un po' a scurire verso l'interno perché ci sono varie colorazioni un po' più scure che terminano anche con del bianco. Vedete, sembra veramente ghiaccio, l'hanno fatto veramente benissimo. Questa è la base vera e propria dove poggia il personaggio. E qui sul retro abbiamo questi spuntoni, anche questi veramente incredibili. Questo effetto mi piace un sacco, ripeto. Diventa proprio trasparente qui e poi invece qui diventa un po' più opaco. Con tutte queste sfumature di painting, veramente eccezionale. Guardate qua, anche visto dal retro è fighissimo. E questa non è una cosa che capita molto spesso con le statue. Hanno fatto veramente un lavorone. E non vedo l'ora di vedere anche il mio ammiraglio preferito, ovvero Kizaru. Poi vedremo se riuscirò a farveli vedere tutti e tre insieme magari alla fine. Spettacolo davvero anche questo Aokiji. Ed eccolo qui fiero sulla basetta rotante, non poteva mancare appunto questa parte del video. Allora ragazzi, è una statua incredibile. La posa semplice ma veramente d'effetto. La colorazione è pazzesca. E lo sculpt altrettanto, soprattutto per quanto riguarda l'effetto, è veramente eccezionale. L'unica cosa forse che non mi piace tantissimo, nulla è perfetto e neanche questa statua secondo me, è questo stacco netto che c'è, vedete, tra il braccio e questa parte qui della giacca. Vedete, è troppo distante il colore tra questo ghiaccio e questo. Questo diciamo è l'unico difetto che riesco a trovare. Però per il resto ragazzi, stiamo parlando di un pezzo eccezionale che già fa vetrina da solo, figuriamoci, posato insieme agli altri due. Io ripeto, non sono un fan accanito di One Piece, ma questi tre ammiragli li devo prendere assolutamente perché sono veramente troppo troppo figli. Ecco qua anche il retro, veramente spettacolare. Anche qui sul bianco ci sono le sfumature, come potete notare. Comunque ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Aokiji con un commento qui sotto. Il like al video è sempre greatissimo, così come anche la condivisione. Vi ricordo che se voleste acquistare questo o tante altre figure le potete trovare nel mio sito Arashop, nella scheda di in alto forse, però qui sotto in descrizione sicuramente. Detto questo, grazie ancora a Dema per aver permesso questa recensione, grazie a voi per la visione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao Dara da Aokiji e collezionate sempre.